Comincia nel 12 novembre i festeggiamenti in onore di Santa Maria della Provvidenza, una ricorrenza che verrà celebrata però nella parrocchia di San Giuseppe, dove in questi giorni è presente una copia del quadro raffigurante La Madonna, che ricorda l'originale che si trova nell'altare maggiore della Chiesa della Provvidenza. La Chiesa della Provvidenza attualmente non è aperta al culto, ha bisogno di restauri soprattutto interni e pare che ci si stia adoperando per poterli ottenere da parte della comunità europea. Nel frattempo la celebrazione della festa che terremo il 21 novembre prossimo la terremo qui nella Chiesa di San Giuseppe. Il giorno di festa, il 21 novembre, sarà accompagnato dal suono della zampogna. Si prevedono inoltre diverse celebrazioni della Santa Messa, tra la mattina alle 9, 10 e 11 e due il pomeriggio, una alle 16.30 e poi alle 17.30, celebrazione che sarà presieduta dal Vescovo della Diocesi Nissena. Subito dopo comincerà la processione animata dalla banda musicale, partendo da Piazza San Giuseppe, passando per Corso Umberto, Piazza Garibaldi, Via Palermo, Corso Vittorio Emanuele e Via 20 Settembre, per poi ritornare nella parrocchia di San Giuseppe. Una devozione, quella verso la Madonna della Provvidenza, che ha una lunga storia, così come racconta lo stesso parroco. Francesco Pulci, lo storico nisseno, morto nel 1924, nella sua opera sui lavori ecclesiastici della chiesa Nissena, fa riferimento a un'antica chiesa risalente al 1645, proprio costruita nelle quartiere Zingari, proprio perché la città era allora suddivisa in quattro quartieri, tre dei quali riportano il nome di un santo, questo invece è il quarto no. Il culto risale proprio a metà del 1600, tant'è che c'era una confraternita con il titolo del Madonna della Provvidenza. Poi, nei secoli seguenti, ancora si è incrementato questo culto, poi l'antica chiesa fu demolita, ne fu costruita un'altra nel 1684, dove i fratelli Francesco e Mariano Salerno hanno dato un paramento in Damasco, tutto quanto completo per il culto. 1817, già la chiesa fu ricostruita, che ha l'attuale posizione, che guarda propriamente a prospetto a mezzogiorno. E da quel momento, ancora di più, il culto della Madonna della Provvidenza si è incrementato in tutta la città di Caltanissetta. di Caltanissetta.